Parliamo di economia, sono drammatici i dati del rapporto Svimez. In Sicilia il rischio di povertà è di tre volte superiore che nel resto d'Italia. Il prodotto interno lordo cresce poco e la ripresa, in assenza di interventi drastici, avrà ritmi lentissimi. Sentiamo. In Sicilia il rischio di povertà è del 39,9%, più di tre volte maggiore che nel resto del Paese. È uno dei dati più preoccupanti che filtra dalle anticipazioni del rapporto Svimez 2017 presentato a Roma. Nel 2016 10 meridionali su 100 risultano in condizione di povertà assoluta contro i 6 su 100 del resto del Paese. Il prodotto interno lordo del mezzogiorno nel 2016 è cresciuto più che nel centro nord, l'1% contro 0,8%. Ma secondo le stime dello Svimez nel 2017 il PIL aumenterà dell'1,1 al sud e dell'1,4 nel resto della penisola. Mentre nel 2018 la crescita rallenterà con più 0,9 nel meridione e un più 1,2% nell'Italia centrosettentrionale. A differenza di altre regioni meridionali il PIL della Sicilia, dopo gli ottimi segnali del 2015, è rallentato fermandosi al più 0,3%. L'aumento degli occupati al meridione è stato di 101.000 unità, anche se molti di questi sono lavoratori anziani o part-time. Le previsioni dello Svimez dicono che, in mancanza di un deciso intervento della politica, il sud va incontro a 20 anni di crescita zero, ritornando ai livelli di prima della crisi solo nel 2028, mentre il resto del Paese si rimetterà in pari già nel 2019. La popolazione meridionale invecchia e diminuisce. In 15 anni risultano 393.000 residenti in meno e sono emigrate 1,7 milioni di persone. Quasi 200.000 di queste sono laureati e circa 3 su 4 sono giovani sotto i 34 anni. Antonio Sanzonetti, TGR Sicilia